Continuano a richiamare l'attenzione delle istituzioni i lavoratori della Sixti di Chietiscalo che hanno messo in atto un nuovo presidio di protesta. La necessità manifestata dalle segreterie provinciali di Filctem CGL, Femca CISL e Wiltek Will è quella che i lavoratori ottengano entro il 12 maggio prossimo l'anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. I dipendenti SIXI sono stati ricevuti dal prefetto Fulvio De Marinis e dal neoquestore Filippo Barboso. L'azienda che produce abbigliamento femminile nelle scorse settimane è stata ammessa al concordato preventivo. Il Tribunale di Chieti ha nominato due commissari giudiziali. Secondo le organizzazioni sindacali avere risorse certe, immediate e positive sull'anticipazione eviterebbe a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie già segnate da mesi durissime e con scarse prospettive occupazionali di cadere nel dramma della disperazione e dell'indigenza. Ma problemi ci sono anche sotto un altro profilo. Il piano industriale presentato a gennaio scorso dalla nuova proprietà di Sixti prevede infatti il reimpiego di appena una cinquantina di lavoratori rispetto agli oltre 360 attuali. I sindacati hanno chiesto che si trovi una soluzione anche per le centinaia di persone che resteranno fuori dal progetto industriale. Intanto domani 8 maggio si terrà un nuovo incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico.